Laboratorio Polifunzionale di Tecnologie Molecolari Il Laboratorio Polifunzionale di Tecnologie Molecolari è impegnato in numerosi progetti di ricerca industriale in collaborazione con imprese farmaceutiche, biomediche e agroalimentari. Il Laboratorio sperimenta la costruzione di cellule semisintetiche con finalità diagnostiche e terapeutiche. Un progetto all'avanguardia nel campo della nanomedicina e della biologia sintetica per contrastare le malattie oncologiche e le patologie degenerative. Sono in corso ricerche mirate all'identificazione di composti naturali che possano integrare la chemio e la radioterapia oncologica. I primi risultati evidenziano una diminuzione della proliferazione cellulare accompagnata a una tossicità estremamente ridotta. Le ricadute industriali delle ricerche svolte nel settore agroalimentare sono focalizzate sullo sviluppo di cibi funzionali e sulla sicurezza alimentare. Sono in corso sperimentazioni avanzate per la produzione di cibi di consumo quotidiano con proprietà nutrizionali arricchite e funzioni di maggiore protezione dalle malattie. Nel settore della sicurezza alimentare sono stati sviluppati e già immessi sul mercato sistemi di analisi microbiologica di prodotti agroalimentari basati su un metodo colorimetrico innovativo. Ulteriori ricerche riguardano i prodotti ortofrutticoli di grande distribuzione pronti al consumo che senza il ricorso all'ingegneria genetica garantiscono un deperimento ritardato mantenendo inalterate le proprietà nutrizionali e le caratteristiche organolettiche. Laboratorio polifunzionale